Ciao da Luci! Oggi faremo insieme una bellissima sciarpa ad anello che potrà essere indossata anche come cappa coprispalle è veramente molto soffice, molto bella e io ho scelto dei colori che sono veramente fantastici naturalmente tutto il materiale che vedrete nel video è acquistato da Merceria Italia Artisan partendo da questo bellissimo filato Naco Peru Color è un filato pelosino molto molto bello guardate questa colorazione è fantastica ed è la colorazione 32416 nel caso vogliate acquistarla dello stesso colore e vi dico subito la composizione allora innanzitutto la metratura sono 100 grammi per 310 metri io ho utilizzato una cake per intero è un'altra cake a metà tenendo presente che io non l'ho fatta tanto alta e dovete tenere presente anche della vostra circonferenza delle spalle quindi vi deve avvolgere le spalle e magari essere anche un pelino più larga proprio per permettervi di poterla utilizzare anche a due giri come sciarpa la composizione del filato è 25% alpaca 25% lana e 50% premium acrilico altro accessorio che io ho abbinato a questo coprispalle sciarpa è sempre acquistato da Merceria Italia Artisan questo bellissimo fermascialle in legno è molto comodo anche in questo caso proprio per utilizzare la sciarpa e facendo questa arricciatura portarlo ad essere un coprispalle vi mostro proprio come lo infilo ecco qui vedete creo questa pens al centro che restringe diciamo il nostro bordo perché questa è una semplicissima sciarpa ad anello quindi avrà sempre la stessa circonferenza sia alla base che sopra quindi se vogliamo stringerla per farla diventare una cappa questo sarà un accessorio indispensabile altro materiale che dovrete utilizzare è un uncinetto del numero 4 un ago tira fettuccia per nascondere i fili e ovviamente un paio di forbici direi che possiamo passare subito alla spiegazione il multiplo per questo schema è di 5 io qui ho avviato 30 catenelle solo per farvi un campione però ne ho montate 200 dopo vi lascio in descrizione anche la misura della mia quindi la mia circonferenza e ovviamente l'altezza del mio scaldacollo ora andiamo a chiudere in cerchio la nostra catenella ecco qui quindi partiamo con tutto un giro di maglia bassa facciamo una catenella rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa nella successiva una maglia bassa nella successiva una maglia bassa una maglia bassa una maglia bassa una maglia bassa e così per tutto il primo giro arrivata in fondo al giro controllo che la catena sia dritta quindi che il lavoro sia dritto e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata e così abbiamo concluso il nostro primo giro partiamo col secondo ci alziamo con tre catenelle ed andiamo a fare nella stessa maglia sottostante altre tre maglie alte per un totale di quattro una due e tre una catenella di separazione carichiamo il filo e saltiamo quattro maglie sottostanti una due tre e quattro sulla quinta andiamo a fare quattro maglie alte una due tre e quattro ripetiamo il procedimento per tutto il giro una catenella salto una due tre quattro maglie sulla quinta vado a fare quattro maglie alte una scusate è piccolino e si gira due tre tre e quattro termino il giro con una maglia bassissima sulla prima tre catenelle inizio i miei punti puff quindi carico il filo entro nel foro sottostante quindi proprio questo sotto alle tre catenelle pesco il filo esco e alzo la maglia all'altezza delle tre catenelle ripesco rientro e faccio la stessa cosa questa cosa la faccio per tre volte quindi il primo punto puff carico il filo e tenendo fermo tutto con il dito così non ci scappano entro nel prossimo forellino e faccio la stessa cosa quindi tre passate nel filo per fare il nostro altro punto puff quindi prima e alzo bene seconda e alzo bene terza e alzo bene carico il filo e stando attenti a non perdere niente cosa che a me capita spesso ecco uscite da tutto una catenella di separazione vedete abbiamo due noccioline unite attorno al nostro ventaglietto di quattro maglie sottostanti quindi nello stesso foro due maglie alte una due catenella di separazione e ripeto quindi entro una volta entro due volte entro tre volte carico il filo prossimo foro entro la prima volta entro la seconda entro la terza ed ora stando sempre attenti a non perdere niente esco da tutto state anche attenti a non tirarvi dietro fili perché sennò la seconda nocciolina risulta un po strizzata una catenella di separazione nello stesso foro due maglie alte seguite da una catenella di separazione e ripetiamo quello che ho fatto ve lo faccio vedere un'altra volta entro la prima volta entro la seconda entro la terza carico il filo prossimo foro entro la prima volta entro la seconda entro la terza carico il filo ed esco da tutto siamo sempre attenti al massimo usciamo in più riprese nessuno ci obbliga a tirar giù tutte le maglie in una volta dall'uncinetto possiamo farlo anche un po per volta catenella di separazione due maglie alte all'interno dello stesso foro due catenella di separazione e vado a ripetere vedete questo è quello che viene fuori quindi due bellissimi punti puff avvolti al ventaglietto sottostante io termino il giro e poi vi faccio vedere come si chiude come si inizia l'altro perché è semplicissimo e questo punto si alterna proprio su questi due giri è sviluppato solo su due giri quindi sarà la ripetizione di questi due per tutta la nostra altezza sono arrivata all'ultimo ventaglio sottostante quindi sono arrivata al punto puff eseguo il punto puff in questo foro 1 2 3 carico il filo vado dove io ho già fatto il punto puff di partenza e faccio il secondo punto puff 2 3 chiudo tutto insieme come fatto fino adesso catenella e le due maglie alte una e due a questo punto faccio la catenella di separazione come vedete io qui ho il punto puff che unisce questo foro a questo foro chiudo con una maglia bassissima proprio sul forellino centrale vedete proprio qui dei due punti puff in questo modo maglia bassissima e ho chiuso il mio giro come potete vedere abbiamo tutti i nostri bei punti puff avvolti attorno ai ventaglietti sottostanti ora la partenza non è nulla di più semplice perché noi siamo già al centro dei punti puff e non dobbiamo fare altro che fare i ventaglietti 3 catenelle per la prima maglia alta carico il filo rientro vedete proprio qui dove ho fatto la catenella per chiudere i punti puff rientro e faccio un'altra maglia alta e poi altre due per un totale di 4 3 4 una catenella di separazione carico il filo entro sulla catenella questa qui al centro degli altri due punti puff uniti e faccio quattro maglie alte una due tre quattro una catenella di separazione prossima unione dei punti puff vedete qui in mezzo quattro maglie alte una due tre quattro quattro tre quattro 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 giro in questo modo ora ripeto il giro precedente quindi lo facciamo insieme una catenella attorno vedete faccio questo movimento e torno indietro di un punto per entrare all'interno dell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa e due catenelle in questo modo ora rientro e faccio il mio primo punto puff carico entro nel prossimo forum da fare il mio secondo punto puff che naturalmente sarà unito al primo quindi punto puff non chiuso una volta fatti tutti i passaggi chiudo semplicemente vedete in questo caso lo faccio in più passaggi se non riesco a chiudere in una volta sola catenella due maglie alte catenella e andrò a fare nuovamente il punto puff questi sono i giri da ripetere per tutta la altezza concludo questo giro vi faccio vedere poi come concludiamo perché andrò a concludere sia da un lato che dall'altro con i ventagli faccio questo giro più un altro giro di ventagli e poi vi faccio vedere come rifinire come vedete ho concluso la mia lavorazione con i ventaglietti in questo modo guardate com'è carina ovviamente qua in piccolissimo però è veramente facile e carino per rifinire anche il sotto nello stesso modo niente di più semplice quindi stacchiamo il filo ovviamente nascondiamo le codine e voltiamo il lavoro da dove siamo partiti quindi qua c'è la catenella iniziale con il giro di maglia bassa mettiamo il nostro filo sull'uncinetto ed entriamo dove abbiamo fatto i ventaglietti quindi nella stessa catenella dei ventaglietti che salivano adesso facciamo i ventaglietti dall'altro lato in questo modo è veramente semplicissimo perché è la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso quindi entro nello stesso foro ne esco faccio la mia maglia bassissima oppure potete fare anche maglia bassa che anche più semplice perché la prima catenella è sempre un po strettina e 2 catenelle per simulare la prima maglia alta e ne faccio altre tre una due tre catenella di separazione prossima gruppetto da tre quindi ventaglio sotto sopra vado a fare un ventaglio dritto 1 2 3 4 catenella di nuovo qui 1 2 3 4 catenella di separazione di nuovo 1 2 2 fate in modo che il vostro filo sia sempre morbido specialmente se usate lo stesso filato perché essendo peloso se lo tirate troppo vi incagliate nei fili 4 catenella e andiamo a fare l'ultimo quindi 1 2 3 4 catenella di separazione maglia bassissima sulla terza catenella inizio giro facciamo magari due maglie bassissime camminando sul ventaglietto per affrancare bene catenella di sicurezza e taglio il filo che poi andrò a nascondere col mio ago tira fettuccia e questa è la lavorazione che ne viene fuori vedete è bellissima a mio parere veramente stupenda se non volete avere la differenza di colore magari prima di iniziare il lavoro il vostro la vostra cake srotolate 23 metri di filato in modo da avere poi lo stesso colore per la rifinitura a me semplicemente il contrasto non dispiace anche perché adesso ve lo faccio vedere sul progetto finito e vedrete che non dà assolutamente fastidio ecco qui il progetto finito come potete vedere anche in quello originale la bordatura quindi la rifinitura sul lato inferiore è di diverso colore nell'insieme non infastidisce ovviamente nel campioncino essendo piccolino magari da un po più fastidio vedere lo stacco di colore ma su tutto un progetto non è assolutamente fastidioso anzi si integra benissimo con la lavorazione le catenelle di inizio che ho avviato io 200 ovviamente sono soggettive perché dovrete prendere la vostra circonferenza delle spalle ed aggiungere un 10 cm anche 15 appunto a quest'ultima misura quindi circonferenza delle spalle più una quindicina di centimetri perché uno vi permette di avvolgere più agevolmente due volte la sciarpa attorno al collo due vi dà la possibilità di avere quel margine per fare la piega in mezzo qualora lo vogliate portare come coprispalle tre se volrete portarlo anche come cappuccio quindi farlo più alto e avvolgerlo un giro attorno al collo e uno farlo passare sulla testa per avere sciarpa e cappuccio insieme vi serve appunto sia una circonferenza più ampia sia un'altezza di lavorazione quindi potrebbero volerci anche due che ex intere io ne ho usata meno di una e mezza quindi una e un quarto o un terzo voi invece potreste doverle utilizzare entrambe vi lascerò comunque sia il filato sia la metratura da me utilizzata così che se voleste usare un filato diverso da quello che ho usato io sapete quanti metri ve ne occorrono io direi che vi saluto spero che anche questo mio progettino piccolo e velocissimo vi sia piaciuto e spero di avervi dato un'idea per i regali di natale o semplicemente per farlo per voi vi saluto vi do appuntamento sul gruppo facebook creando con luci il salotto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial ciao ciao da luci baci